Ragazzi e ragazze buonasera e benvenuti sul canale del Prof di Tromba. Per chi non mi conosce ancora e del nuovo su questo canale mi presento, mi chiamo Learco Spigarelli e insegno tromba dal 2009 ormai presso l'istituto comprensivo Como Centro Città. Sono qui semplicemente per ringraziarvi, voglio ringraziare prima di tutto i miei colleghi con i quali stiamo affrontando la sfida della formazione a distanza e ci stiamo riuscendo alla grande. Volevo salutare e ringraziare tutti i genitori che in questo periodo stanno ricevendo mail con le modalità di accesso a questi nuovi canali. voglio salutare i miei alunni e ringraziare i miei alunni che mi stanno seguendo e voglio ringraziare tutti voi ragazzi che mi state seguendo su questo canale. Molti sono stati complimenti in questa settimana, sono soltanto sette giorni che stiamo insieme e volevo fare un attimo il punto della situazione. Il punto della situazione si riassume con un grazie veramente ragazzi. Ci tengo molto a voi e spero che questo percorso sia sempre più interessante e che troviate sempre nuovi spunti. Siamo partiti con i sette suoni da fare ogni giorno e adesso andiamo avanti ancora con queste piccole pillole di tecnica giornaliera e spero e ho la presunzione di dire sono sicuro che questo percorso vi servirà. Detto questo ragazzi vi auguro una buona notte e un buongiorno perché la lavagna è ancora bianca ma domattina la sporcheremo insieme. Ciao ragazzi un abbraccio e ci vediamo presto. Ciao buonanotte